Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dell'annunso Barry. In questo video vi aggiornerò sulle vite di Sam e Albert, Sam il gemello di Summer. Ce l'avevamo lasciati che Sam aveva trovato nella borsa di Albert un anello di fidanzamento, infatti Albert gli ha chiesto di sposarlo e inoltre improvvisamente hanno anche adottato una bambina. Quindi dopo gli episodi che abbiamo visto della vita di Summer, le decisioni travagliati che Summer ha preso, ho voluto sbirciare un po' nelle loro vite e giocare una settimana sim con loro. Albert è un gioielliere, crea gioielli su commissione e il suo grande sogno è quello di aprire una gioielleria tutta sua. Sam, come sappiamo, è un avvocato e ha i primi livelli di avvocatura, infatti deve fare ancora l'esame per diventare un avvocato vero e proprio. Ha deciso di non andare all'università, quindi inizia la carriera proprio dagli inizi e sono innamorati più che mai. Con l'arrivo di Morgana, questo è il nome della bambina che hanno adottato, i due papà sono dolcissimi con lei, ogni sera gli danno il bacio della buonanotte e loro due vanno poi a dormire tutti abbracciati, sono super innamorati, davvero super innamorati e hanno anche organizzato le nozze per il giorno e invitato tutti i amici e parenti. Alla mattina Morgana si sveglia sempre con un abbraccio di Albert perché la sveglia sempre Albert, papà Albert, perché papà Sam va presto in studio, cioè in ufficio. Come mai hanno adottato questa bambina? Così, improvvisamente, sappiamo che Sam e Summer sono molto legati, quindi sanno tutto della loro vita e delle decisioni che vogliono prendere in futuro. Ma improvvisamente, se qualcuno ha visto gli episodi precedenti, quindi lo sa, Sam, o adesso Albert, adesso non mi ricordo chi, ha mandato un messaggio a Summer dicendo abbiamo adottato una bambina. Praticamente Albert, lui fa gioielli su commissione, si fa conoscere su Instagram, insomma sui social e lo chiamano per fare gioielli su commissione. L'ha contattato questo uomo che amministra una casa famiglia e voleva creare un gioiello per sua moglie perché era il suo compleanno, insomma, no? Era una data importante. Allora Albert va in questa casa famiglia per consegnare il lavoro alla persona. E vede, in questa casa famiglia ci sono diversi bambini e vede questa bambina tutta mogia mogia, un po' triste. Allora va lì, cerca di giocare con lei e gli chiede come mai quella bambina è così triste. E gli dice che praticamente era stata affidata ad una famiglia, ma la famiglia l'ha voluta ridare indietro, in poche parole come un pacco, perché è birbantella. Insomma, fa sempre un pochino di disastri. Allora Albert, per tirarle sul morale, dopo aver consegnato il lavoro, ha giocato un po' con lei e niente, è stato amore fra i due e la bambina, quando Albert doveva andarsene, si era messa a piangere e lo abbracciava forte, perché non lo voleva far andare via. E niente, Albert, scusate, ha deciso di adottarla. All'oscuro di Sam, infatti, quando Albert è tornato a casa, gli ha detto Sam che le cose erano fatte, quindi l'avrebbe adottata, colui o senza di lui. Insomma, c'è stato un po' di tensione in famiglia, ma alla fine, quando questa bambina è arrivata, anche Sam, cioè, anche se lui era insicuro di diventare padre, perché non ci pensava ancora, alla fine tutto il suo desiderio di paternità è esploso appena ha visto questa bambina e tant'è che adora avere una famiglia così allargata e avere dei figli. Come ho detto, la piccola Morgana è birbantella, ogni due per tre fa disastri e quindi i genitori cercano di riprenderla e fagli capire che queste cose qui non devono essere fatte. La piccolina sta molto spesso con Albert, perché Albert, essendo un gioigliere, va in giro a cercare, insomma, gemme preziose e la piccolina sta con lui al parco, vicino a lui, e a volte è molto tranquilla, devo dire, e gioca al suo tabletto. A volte fa disastri, ma a volte è davvero un amore. La bimba, hanno adottato la bambina, hanno adottato questa bambina che era già grandicella, quindi dopo due giorni sim, praticamente era il suo compleanno e l'hanno portata al parco. Lei subito ha visto i giochi, gli scivoli, voleva andare su. E Sam, all'idea che la sua bambina diventerà grande, era già emozionato, insomma. E niente, hanno chiamato, quindi hanno deciso di fare questa festa al parco, hanno chiamato tutti i amici e parenti, e quando è arrivata a Sammer, lei era, che di solito sappiamo tutti com'è il carattere di Sammer, molto, gli piace stare molto al centro dell'attenzione, invece in questo caso era molto stanca, si vedeva, piena di brufoli, tristissima, Cioè, non era da Sammer, però, vabbè, cerca di non farlo vedere e quando la bimba, la sua nipotina, anche lei è super innamorata della sua nipotina, deve soffiare sulle candeline e cerca di cantare buon compleanno, super ad alta voce. e Albert l'aiuta a soffiare le candeline, tutti sono lì a fargli, a cantargli la canzone, e la piccola Morgana diventa bambina e apre questa montagna di regali, perché tutti gli hanno fatto i regali, ha ricevuto tantissimi regali. Ovviamente ci sono anche le nonne, nonna Leslie, che è la mamma di Albert, e nonna è Melanie. Ovviamente va a abbracciare anche le nonne, che gli hanno fatto i regali, nonna Melanie gli ha fatto il regalo del tavolo chimico, quello per i bambini, e nonna Leslie gli ha fatto un dondolino, che nelle prossime foto lo vediamo, ovviamente va a abbracciare le sue due nonne, perché è felice comunque dei regali, inoltre ha ricevuto tanti tanti altri regali, tra cui il tavolo per disegnare, il diario segreto, dei giochi, insomma, tantissimi regali. Infatti qua vediamo, quando è tornata a casa, nella sua cameretta ha subito posizionato il cavallino ad ondolo, e ogni due per tre è lì a giocarci. E ovviamente gli piace tantissimo anche il diario segreto per scrivere tutte le sue avventure giornaliere. Questi capelli sono quelli del pack sui gioielli, adesso non mi ricordo il nome preciso, e ha una molletta con un gioiello. Io ho pensato che quel gioiello lì, questa molletta gioiello, gliel'ha fatta suo papà Albert per il suo compleanno. E ovviamente anche gli orecchini, quelli lì rosa, erano anche lì un regalo di compleanno dal papà Albert, eccetera. Il giorno dopo sarebbe stato il matrimonio di Sam e Albert. E i due gemelli molto spesso si trovano nell'atro dove c'è l'ascensore e parlano delle loro cose. E Sam gli dice ti ho trovata strana in questi giorni, sei sempre occupata, ci sentiamo poco, ti vedo sempre molto triste, che cosa ti succede sorellina? So che con la mamma state andando d'accordo e sono felice di questo, ma so che non avete un rapporto così stretto e so che avevi questo rapporto, raccontavi tutto a papà. Se hai qualcosa che ti preoccupa, che vuoi sfogarti, sai che io ci sarò sempre, ci sono sempre. E lei dice sì, sto attraversando un periodo un po' particolare, però non voglio farti preoccupare la prima notte di nozze, cioè il giorno prima del matrimonio, quindi non preoccuparti di me, goditi la tua ultima notte da single, mezzo single anche se ormai ti stai per sposare, goditi questa serata e comunque ti ringrazio per il supporto. È la mattina dopo, la mattina del matrimonio, e i due sposini festeggiano già la prima mattina sotto la doccia, tutti e due insieme. E Sam arriva per primo al posto dove si sposeranno per vedere se è tutto a posto e ho fatto delle foto della location del loro matrimonio. Tutto sul blu perché ho identificato un po' Sam con il colore blu, anche se lui non è un'erede, e quindi sono liberissima di utilizzare il colore che voglio. Però Sam ha sempre utilizzato colore blu, insomma il suo colore preferito è il blu. E quindi, e questo è il posto dove si sposeranno. Insomma, controlla che tutto sia posto e attende lo sposo, suo futuro marito Albert, e tutti i parenti e amici. Prima del matrimonio, infatti stavano per arrivare tutti, Samer chiama il fratello dicendo sono in ritardissimo, sono in ritardissimo, non preoccuparti, sto per arrivare, non mi perderò il tuo matrimonio, stai tranquillo. E lui gli dice Samer è tranquilla, non è ancora iniziato, stiamo aspettando tutti gli ospiti, quindi non preoccuparti, vai con calma. E quindi arriva il momento del matrimonio. Per primo entra Albert con questo abito color crema e sta benissimo, si è anche raccolto un po' i capelli ed è proprio carino con tutti gli amici, parenti, ci sono anche Villa Real perché sappiamo che Leslie si è sposata con Hugo che è sulla sinistra del video e sulla destra troviamo Luna la sorella di Hugo quindi sono diventati parenti. La bambina che si vede dietro a Luna è la sorellina di Albert quindi la figlia di Leslie e Hugo Villa Real che si chiama Noemi se non sbaglio o Diana adesso mi sfugge il nome chiamiamola Noemi poi vi dirò il nome vero di questa bambina che in questo momento non mi ricordo insomma entra e fa la sua entrata poi entra la piccola Morgana a portare le fedi ai suoi due papà tutta emozionata e tutta felice e tutta vestita benissimo sempre sul colore blu e poi è arrivato il momento entra Sam a braccetto con sua mamma e Albert che lo sta aspettando all'altare Melanie è strafelice e molto orgogliosa di suo figlio questa volta si è vestita bene perché se ricordiamo al matrimonio di Summer che poi non è andato a buon fine era vestita in modo strano tant'è che non l'avevo neanche riconosciuta però questa volta si è vestita bene ed è tutta emozionata a portare all'altare il suo figlio e ho fatto una panoramica di tutti gli invitati ovviamente hanno invitato anche John perché è un amico di infanzia e in fondo al bar vediamo che è arrivata anche Summer e si è fiondata sul bar però anche lei verrà a sedersi a guardare la cerimonia qui era molto bella la scena perché lui saluta praticamente sua figlia e Melanie che si è emozionata tantissimo e arriva il momento arriva il momento che si scambiano le promesse e è stato un momento bellissimo erano tutti emozionati tutti che piangevano tutti che ridevano guardate Melanie com'è super emozionata vediamo in fondo Summer che è sempre lì al bar a bersi qualcosa mi sa che ha bisogno di bere e ovviamente vediamo anche Leslie anche lei super emozionata vi ricordo che Melanie e Leslie sono amiche sono amiche di infanzia praticamente e quindi è anche bello che le due praticamente sono diventate dei parenti con suocere e arriva il momento dello scambio degli anelli sempre molto emozionante ed è stato un bellissimo matrimonio e questo è il bacio tutti poi si sono alzati a buttare il riso e arriva il momento del pranzo la piccola Morgana fa amicizia con praticamente la sorellina di suo padre che quindi è la zia però vabbè hanno la stessa età quindi ed è molto molto carina assomiglia molto a Leslie ovviamente Summer si avvicina al fratello e gli fa le congratulazioni che è stato un bellissimo matrimonio ma sappiamo tutti che intanto lei era al bar ma ha visto comunque tutta la cerimonia e fa tantissime congratulazioni al suo fratellino Albert Albert dopo il pranzo avvicina a tutti e fa il discorso di essere super felice ed è felice di avere un marito così meraviglioso che ama tantissimo e una figlia così meravigliosa e spera che un giorno la sua famiglia si allargerà sempre di più ovviamente è bellissimo festeggiare con tutti i parenti e amici che gli vogliono tanto bene e arriva il momento del primo ballo tra i due neoconiugi ed è un momento bellissimo su note di musica romantica abbiamo persino il casquet e poi tutti quanti dopo il ballo si si scatenano in pista arriva il momento del taglio della torta e Albert fa il figo cercando di fare un'acrobazia con il coltello ma appunto si taglia Sam è preoccupato Albert che cosa stai facendo e lui si taglia e Sam te l'avevo detto che era meglio lasciar perdere però poi sottovoce gli dice ti amo comunque e tagliano la torta guardate sempre Leslie super felice emozionata che guarda il figlio è sempre così con questi occhi e questo sorriso tutto il giorno e niente poi tutti prendono la torta e loro si danno si imboccano a vicenda queste sono alcune foto che ho fatto come ricordo e poi li troveremo anche attaccate a casa li metterò anche appese in casa e sono bellissime ovviamente ci sono anche delle foto con la loro piccola Morgana alla fine alla fine della serata Morgana stava andata a dormire dalla nonna Melanie e loro hanno festeggiato a letto la piccola Morgana ama tantissimo disegnare utilizza tutti i suoi giochi ma a dirla tutta l'unico gioco che non ha ancora utilizzato è il banco chimico adesso non mi ricordo come si chiama insomma per fare il piccolo chimico la chimica la scienza a lei non gli piace diciamola tutta però ho ringraziato comunque nonna Melanie al suo compleanno e alla sera non vuole mai andare a dormire infatti Sam gli dice tesoro è mezzanotte e dieci non è ora di andare a dormire e lei fa sempre un po' la raffiana e gli dice dai papà ancora dieci minuti domani non devo andare a scuola e gli fa sì però dobbiamo andare in vacanza andiamo in montagna sì perché Sam e Albert non sono andati in viaggio di nozze però hanno deciso dopo qualche giorno di fare un viaggio di famiglia tutti insieme perché siamo comunque ottobre più o meno e fare un viaggio di famiglia in montagna e lui e lui ci casca sempre quando Morgana fa un po' la ruffiana e gli dice va bene ma dieci minuti non di più me lo prometti e gli fa sì papà te lo prometto te lo prometto fra dieci minuti vado a dormire che poi è un pochino più di dieci minuti ma poi lui la braccia forte e lui se ne va a dormire Morgana scusate gioca ancora un pochino però poi va a letto la promessa è mantenuta è il giorno dopo ed è il giorno della partenza Morgana va a salutare la zia perché ha un ottimo rapporto con con sua zia e poi abita attaccata a casa però la zia non risponde in casa non c'è nessuno ed è molto strano perché sabato mattina anche abbastanza presto sono le nove della mattina e inoltre Summer ha un bambino piccolo ricordiamoci che lei ha un bambino piccolo dopo può essere andata il sabato mattina alle nove con un bambino piccolo cioè di solito è sempre a casa il sabato allora Morgana prova a chiamarla zia perché inoltre Summer sapeva che Morgana sarebbe passata per un saluto prima di partire infatti la chiamano e gli dice ma zia dove sei ti sono venuta a salutare adesso parto e Sam mi fa lo so tesoro ho avuto un contrattempo comunque poi ci rivediamo quando rientrate salutami Albert e Sam gli mando un grosso abbraccio insomma era un po' sbrigativa ecco allora Morgana va da suo papà Sam e Sam mi fa allora hai salutato la zia ma papà la zia non c'era a casa e lui gli fa l'hai chiamata hai provato a contattarla ma magari ha avuto un contrattempo sì sì l'ho chiamata infatti mi ha detto che ha avuto un contrattempo però c'era un pochino strana non lo so mi è sembrata strana e Sam mi diceva vabbè dai non preoccuparti magari ha avuto un contrattempo da fare l'importante è che l'hai salutata anche al telefono però Sam non era tranquillo infatti fa le ultime faccende di casa e pensa che la sua sorellina sua sorella era molto strana in questi giorni e la cosa strana è che non si confidava più con lui ed era molto molto preoccupato partono per le vacanze e arrivano in montagna il primo impatto di Morgana è oddio questo posto è isolato non c'è nessuno tutto nel verde che cosa farò qui perché Morgana ha sempre vissuto in città insomma e per lei i rumori i luci ha sempre visto solo questo e lei pensa che lì si annoierà da morire inoltre la casa è tutta un po' ononima perché comunque è una casa d'affitto non gli piace allora ha deciso ma sì dai la leghiamola un po' e inizia a fare i disastri e la scena è bellissima perché Albert è andato un po' a letto perché ha l'influenza poveretto e quindi l'ho mandato a dormire Sam è qui che sta cucinando no perché a sera sono arrivati alla sera e appena gira l'occhio vede Morgana che sta facendo uno dei suoi disastri e lui dice signorina non ci si comporta così adesso vai pulisci il tuo disastro e poi mangiamo hai capito e gli fa sì sì papà infatti poi è andata lì a pulire e tutto quanto alla sera Morgana poi è andata a dormire Albert hanno mangiato ovviamente tutti insieme poi Morgana è andata a dormire e Albert chiede a Sam che ha bisogno di parlargli perché è da un po' che sta pensando a una cosa e lo vede anche Sam lo vede anche preoccupato e si preoccupa a sua volta che succede Albert e lui è da un po' che ci stavo pensando ok a cosa non so neanche come la prenderai e ok adesso mi stai facendo preoccupare allora adesso parla però ok te lo dico Sam sappiamo che la nostra piccola Morgana sta crescendo sì questo è è sicuro che sta crescendo bene allora visto che sta crescendo io stavo pensando di allargare la famiglia adottiamo un altro bambino Sam voglio vorrei adottare tantissimo un bambino una bambina non mi interessa il genere del prossimo figlio ma voglio avere una famiglia numerosa se tu sei d'accordo io sarei felicissimo di accogliere un altro figlio e lui al momento dice Albert ok ma noi abitiamo in un appartamento piccolissimo abbiamo appena fatto fatica a trovare a cercare di sistemare la casa per sistemare comunque la cameretta di Morgana un altro figlio dove lo mettiamo e lui beh cambiamo casa e si ho capito però stiamo mettendo via i soldi per il tuo negozio il tuo sogno magari chiedo un prestito a mamma perché sappiamo tutti che Leslie sposandovi la E.A.L. è diventata bella ricca chiederò un prestito a mamma e compreremo il negozio e con i nostri soldi prenderemo un'altra casa un po' più grande magari una villetta e Sam gli fa io sono felicissimo di allargare la famiglia vorrei davvero un altro figlio ho questo desiderio di diventare ancora padre quello è indiscutibile soprattutto con te però sono preoccupato di come prenderà piccola Morgana e Sam Albert gli dice vabbè glielo chiediamo gli chiediamo che cosa ne pensa e se per lei va bene adotteremo un altro bambino magari non subito non è che ti dico di adottarlo domani dobbiamo vedere di sistemare la casa eccetera di sistemare un po' di cose allora Sam dice va bene adotteremo un altro bambino sono d'accordo e ovviamente loro si si baciano e Albert è felicissimo di questa e l'ha preoccupato di dirgli questa notizia ma sono sono felici come vi ho detto loro sono super innamorati sono bellissimi ogni volta che sono nella stessa stanza diventano subito flortanti ma così senza che fanno niente magari si parlano come dire come va cioè loro subito flortanti bellissimi è giorno di Halloween la piccolina si sveglia e si spaventa con la ciotola delle caramelle e intaglia subito la zucca per abbellire un po' sta casa un po' anonima anche per lei è anonima sta casa e tutti si travestono quello vestito in rosso è Sam che non so che maschera sia Albert si è vestito da tizio che consegna le pizze e Morgana si è vestita da Yoda penso che si chiami Yoda insomma mangiano gli hamburger poi ovviamente ci sono anche delle foto di rito perché non potevano fare le foto e vediamo che Albert sta intagliando anche lui la zucca perché tutti tre hanno intagliato la zucca la zucca sghemba l'ha fatta Morgana la zucca qua sulla destra l'ha fatta Sam e adesso vedremo la zucca di Albert e intanto Sam e Morgana ballano sulla musica spettrale appena Sam e Albert conclude la sua zucca anche lui si unisce nei balli e poi iniziano a vedere un film di paura spengono tutte le luci e guardano questo film di paura vediamo Morgana un po' si la sta guardando Albert che si annoia e sta guardando il cellulare e Sam super spaventato ovviamente stiamo parlando di film di paura per bambini e qua ci sono anche delle foto di loro due molto molto simpatici e qua poi ho fatto anche una foto ricordo delle zucche come vi ho detto la zucca sghemba sulla sinistra è la fatta Morgana quella in centro la zucca normale l'ha fatta Sam e la zucca forma di gatto l'ha fatta Albert la sera Albert mette a letto la piccolina e che gli dice papà è stata una giornata bellissima sono felicissima e niente gli dà il bacio della buonanotte e loro due un po' esausti si mettono abbracciati sul divano il giorno dopo Albert e Morgana vanno a pescare e scopriamo che Albert ama pescare e così anche Morgana si diverte un mondo a pescare e intanto invece Sam lui fa delle passeggiate perché proprio pescare non gli piace allora fa visto che è una così bellissima giornata fa delle belle passeggiate la piccolina Morgana gli piace talmente tanto che lei doveva scegliere un corso extrascolastico e ha deciso di diventare una scout perché gli piace di stare nel verde pescare e quindi ha deciso di iscriversi a questo corso extrascolastico quindi il primo giorno era proprio sconfortata che non c'era niente da fare per lei sarebbe annoiata invece si sta rivelando questa vacanza molto divertente e molto bella nel pomeriggio tardi gioca con Sam a questo gioco che non mi ricordo la cosa dei cavalli che non mi ricordo come si chiama e poi alla sera sempre nel giardino della casa dove hanno nel loro rifugio nella loro casa arrostiscono il pesce pescato e fanno la serata praticamente all'aperto e Albert ne approfitta per parlare con Morgana e dice sai io e papà pensavamo in futuro non adesso di adottare un altro bimbo o bambina tu cosa ne pensi ti piacerebbe avere un fratellino una sorellina ci hai mai pensato e lei dice sì papà mi piacerebbe così gioca insieme a me e basta la cosa si conclude qui penso che anche Morgana non ci abbia pensato molto molto comunque gli dice sì sì sarebbe divertente e e niente poi Morgana inizia a parlare di a raccontare storie e di un'avventura eccetera no e loro il suo papà li ascolta ovviamente Albert è super felice della storia emozionato Sam si spaventa per una storia di avventura per bambini vabbè Sam è un po' pauroso alla sera Sam e Albert si trovano sempre a giocare un po' carte per passare il tempo perché loro non vanno a letto presto e il giorno dopo è il loro ultimo giorno di vacanza Sam per tutta la vacanza non ha mai sentito Summer la chiama e sente la sorella disperata in un pianto e tant'è che Sam mi dice che cosa sta succedendo un po' preoccupato cioè sorellina tutto bene e a momenti non capisce nemmeno che cosa sta succedendo alla fine chiude la chiamata e va a dire qualcosa ad Albert che rimane scioccato e io concludo qui la settimana della famiglia di Sam e Albert per poi andare nel prossimo video da Summer e scoprire che cosa sta succedendo alla nostra protagonista alla nostra generazione rossa io spero che questo video vi sia piaciuto questo piccolo aggiornamento della famiglia di Sam e Albert se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un mi piace ed iscrivervi al canale io vi mando un grosso bacio e alla prossima ciao ciao